buongiorno a tutti allora sono fomentato perché era un po che volevo farvi questo video sullo snobbismo di certe squadre verso determinate competizioni europee perché ormai sembra che conti solo la champions e invece magari conference league europa liga non ci interessa eccetera perché noi dobbiamo puntare al quarto posto ed era il discorso che facevo appunto della questione tottenham che è stato appunto eliminato perché si è rifiutato di non ha potuto giocare con rem la partita di europa league per la questione covi giustamente uno dei miei faller mi ha detto scusate un attimo stop perché è al cento per cento poi mi si blocca il video quindi stop un attimo ma poi proseguiamo dicevamo fa gigi ma però perché loro non si non si vaccinano questo e quell'altro quindi non devono rompere le scatole e poi comunque è una competizione che a loro non interessa allora io sono andato a vedere il tottenham del buon conte che è andato via a sostituire per essere allenatore in questo momento dopo la partita libidile contro il liverpool che avete visto hanno fatto due capito hai fatto due a due in casa con liverpool non ti serve una beata giovanna al ritorno liverpool vince 1 a 0 e ti manda a casa non è che hanno vinto 4 a 2 hanno fatto 2 a 2 in casa con liverpool pareggi in casa sconfitto in trasferta sei a casa l'intera san siro il liverpool lo deve asfaltare se vuole sperare di passare il turno se lo batte bimbo 2 a 0 forse e sottolineo forse riusciamo a eliminarlo ma son forse ma proprio ci sarà da lottare lo stesso se fai 2 a 2 sei già a casa perché è l'anno vinci non riesce a portarti sul sul pareggio che tanto va bene qualsiasi pareggio 0 a 0 1 1 44 a 4 perché non vale più il gol in trasferta se no vai a casa comunque lasciando perdere quello non mi sembra che il tottenham sia lì che sta giocando per il campionato per vincere il campionato anzi è a sei punti dalla dall'arsenal che quarto certo il campionato ancora lungo potrebbe anche riuscire ad arrivare al quarto posto però sinceramente una conference che tu hai tutte le chance in regola sei la squadra favorita sulla carta una delle più papabili per vincere il trofeo e lo snobbi cioè non mi sembra che il tottenham in questi anni abbia vinto tanto stesso discorso lo potrei fare per la roma la roma non vince una beata giovanna dal 2007 o dal 2008 che ha vinto la coppa italia e non è che ha vinto chissà che cosa quindi una conference che la porti a casa non è che fa schifo soprattutto se ti rendi conto che il quarto posto non lo puoi raggiungere io capisco che per molti no è importante tanto poi cosa fai partecipi alla champions e ma porta soldi capito ma tanto resti sempre dietro alle big alle cosiddette big perché guadagneranno sempre lo stesso più di te solo responsabilizzazioni il manchester united anche se non partecipasse alla champions guadagna di più di quella che teoricamente vince la champions guadagna lo stesso di più una squadra che si era al madrid o quello che vince la champions poi vai a vedere quanto ha fatturato eccetera il manchester fattura lo stesso lo united e non il city il city c'è i suoi intrallazzi con quell'altro che trova le sponsorizzazioni come l'altro suo parente che c'è babbo natale che gli compre i giocatori ma lì è un altro discorso quindi io quando sento ehi ma qua al nato non gli interessa ma tanto cazzo snobbato e ma il tottenon è una roba del genere tottenon è settimo ragazzi il tottenon è nelle stesse condizioni della lazio della fiorentina della lazio io posso capire se un real madrid un barcellona l'inter no perché se mi snoba una competizione che non è la champions io mi incazzo come una iena perché il quarto posto io lo do per scontato per la mia squadra per altre squadre no ma per la mia squadra il quarto posto deve essere il minimo sindacale da raggiungere come ridere come dice il buon catto 4.000 like facili ecco un quarto posto è facile in questo momento qualche anno fa no qualche anno fa era qualcosa di miracoloso ma perché perché avevamo la squadra che vabbè ti accontenti di quello che passa al convento sei interista e la tifi perché io a differenza di tanti altri che ah che squadra de brock squadra de brock perché all'inizio del campionato è partito questo kill e downfist abbiamo preso simone zaghi figurati non è capace le brock e quelle kill e su le jo io vorrei farvi vedere dovrei dovrei fare una bella stampata di quello che mi ha scritto l'interista mio amico interista che è sempre negativo lui è il re del negativismo e del positivismo all'edesima potenza non ha via di mezzo l'inter perde una partita da bb l'inter vince una partita siamo fortissimi facciamo il triplete non ha mezza misura poi quando parte con l'idea che è negativa ma avanti avevamo appena superato la champions l'ambito con con lo sheriff o con lo shatter l'ultima partita che ci ha garantito la champions c'era la partita col venezia dopo col venezia le prendiamo cosa facciamo col venezia col venezia le prendiamo è difficile negativismo al massimo perché perché ha deciso che quest'anno l'interno non sarebbe andata perché era partito tizio caio sempronio era partito conte eccetera eccetera io ho detto calma che arriva un allenatore che con una squadra don al top del top ha sempre vinto qualche cosa quindi calma ma parliamo sempre maggio però ripeto quando vedo questo snobbismo verso le competizioni tanto noi partecipiamo alla champions inter juventus napoli quelli che va dicendo quest'anno c'era inter milan atalanta juventus che partecipavano alla champions partecipano fanno da sparring parten sono lì tanto per fare numero ma tanto poi la finale bayern monaco pari san germain bayern monaco liverpool bayern monaco real madrid con il lancelotti che si inventa qualche cosa per portare il reale in finale non ce le vedo inter e juve in finale poi o il pallone rotondo magari ci va di fortuna magari il liverpool ce li ha tutti i covizzati perché non si vaccinano e quindi o non giocano devono scendere in campo con le terze linee con i ragazzini della primavera e li asfaltiamo ma grazie a quello non certo perché non vuoi andare c'hanno un attacco che fa paura c'hanno i due esterni che fa paura in difesa c'hanno il miglior difensore europeo certo la nostra difesa è forte però nostro centrocampo è buono però il loro attacco purtroppo è più superiore al nostro mi stop un attimo comunque questo sdobbismo questo ma no ma noi quella lì non ci interessa ma sei settimo in campionato io posso capire un napoli che mi può dire no l'europa lì la buttiamo al vento poi devo giocare purtroppo hanno avuto la sfiga con tutte le squadre che potevano beccare le nostre due italiane che sono in europa league del dello spareggione ma è anche colpa loro che mi arrivano seconda del girone i due gironi che potevano vincere soprattutto la lazio dai con il galatasarai non puoi se non erano il galatasarai però sono arrivate seconda quindi una si è beccata al barcellona l'altra si è beccata al porto che forse è pure peggio e quindi rischiamo di perdere subito due squadre la roma bisognerà vedere cosa vuole fare se la sdobb o meno sta competizione perché sennò quest'anno ragazzi miei noi rischiamo che dai quarti forse ce ne arriva una sola forse di tutte quelle che ci sono la roma vabbè già agli ottavi quindi sono punti in punti che dovrebbe portare a casa mi auguro che agli ottavi lo becchi una delle delle forti che devono prendere l'atalanta è già avanti donata anche l'atalanta deve fare lo spareggio però non ha una squadra difficile se non ricordo male quindi dobbiamo sperare che l'atalanta e la roma vanno il più avanti possibili perché se non perdiamo una marea di punti del ranking europeo rischiamo di farci sorpassare da portoghesi o francesi e poi dopo ne abbiamo solo tre di squadra in champion 4 attenzione non sdobbiamo le competizioni piccole perché le tedesche stanno facendo una marea di punti grazie a queste competizioni qua minori e ci continuano a stare sempre attaccati davanti poi se sei sempre sali scendi tra noi e tedeschi per il quarto posto dal terzo al quarto posto e dietro francesi e portoghesi non scherzano poi se ci superano vuol dire averne solo tre poi di squadra in champions e sapete cosa vuol dire averne solo tre vuol dire che qualche big sta fuori e già rischiano lo stesso di stare fuori quindi non sdobbiamole non facciamo i cocoriti perché portare a casa una competizione europea è sempre bello è sempre importante poi è logico se tu sei zona champions e ti stai giocando la champions ci sta che magari ma se sei settimo ottavo nono con poche possibilità ma portatela a casa se poi sta coppa provaci che comunque ti dà una garanzia di andare testa di serie della competizione superiore il che vuol dire che se vinci l'europa league sei testa di serie in champions buttala via negli passi davanti a chi ha vinto lo scudetto gli passi davanti quindi vincere l'europa league è quasi più importante che vincere lo scudetto meditate gente meditate invece no fanno gli sdobbona ma ma il tottena non gli interessa è settimo è la sua competizione sei settimo non sei terzo non sei secondo a pochi punti dal city o dal liverpool che dir si vuole sei settimo a 15 punti dalla prima e ti metti a sdobbare una competizione come la conference ma e ragazzoni fatemi sapere voi cosa ne pensate io la mia idea ve l'ho detta io mi incazzai anzi quell'anno di cooper che buttando un buo via una semifinale di coppa uefa forse era ancora la coppa uefa non era ancora europa league contro il fejanor 2 a 2 a san siro 0 1 a san siro 2 a 2 là per far giocare le seconde linee arrivare dalla finale il campionato con ronald e vieni magari ancora in condizioni invece non arrivare nello stesso in condizioni noi buttiamo via sia in europa che il campionato così rimanevo come dei pinocchietti quindi quando hai una competizione da vincere cominci a portare a casa quella poi pensi al resto invece no si sdobba no no ma noi puntiamo al campionato e così l'abbiamo preso in quel post abbiamo perso sia una che l'altra il famoso 5 maggio detto questo ragazzoni io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao